Il consigliere Scalcia lo perdono per fare la considerazione sull'innalzamento dei basoli perché non è competente, non è del mestiere, perché mi è facile rispondere che io non posso innalzare i basoli soltanto sul tratto di via, perché si rincendo e lasciare i basoli prima e dopo inalterate, l'acqua non passerebbe, è proprio l'apalissiano fare questa considerazione. Allora se parliamo invece di sbussare il coso che si è creato, quel margine che si è creato, l'attacco tra le due assi stradali, quello si può fare se le macchine di nuova generazione giustamente sono piuttosto a qualsiasi un ufficio di terreno e rimuove il problema perché non è un grosso problema.